Palla per Nilsen, il danese la palla sul destro, non riesce a trovare un angolo di tiro, deve scaricare sul Zanon, ecco il cross dentro, immobile! Immobile, 27 in campionato, giro immobile, Pescara 2 a 0, e tripudio vero all'Adriatico, all'ultimo secondo di primo tempo, 2 a 0. Anche nelle cose che appaiono banali, ma sono sempre precisi, e torno a ripetere, mi sono interrotto proprio perché l'azione con Pescara non hai mai tempo di esprimere un concetto finale, effettivamente, il millesimo di tempo degli inserimenti, sai quante volte provano in allenamento questa cosa? È finito il primo tempo, restiamo ancora un attimo prima del super spot, intanto per rivedere il replay del gol, il cross di Zanon, perfetto per Immobile, che lo schiaccia! Non arriva Benussi, poi magari possiamo, che ti pare dell'intervento di Benussi? Sì, non era proprio angolato, poteva far meglio, era da una posizione abbastanza ravvicinata, quindi non è semplice per un portiere, però questo Pescara mi incanta sempre di più per lui. È un brutto colpo per il Torino che prende gol proprio un attimo prima di rientrare nello spogliatoio, ma... Sì, non è semplice per un'altra cosa, 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 ma... ... 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